Una teoria dice che l'istinto umano è orientato a preservare la natura. Un'altra che è la natura stessa che ci conserva. Due fatti, due forti poteri. Perché tralasciarne uno dei due? Con un'indubbia volontà di portare i prodotti del futuro dentro la vostra casa, abbiamo utilizzato entrambe queste capacità per i nostri criteri di collaudo. Il risultato, fornito dall'istinto di salvaguardia dell'uomo e ispirato dalla forza di conservazione di madre natura, non può che essere rivoluzionario. Ritello Per introdurre la versione speciale del nuovo Ritello serie R1 SE, come il primo sistema pulento al mondo, dotato di display luminoso, gli ingegneri della Librex si sono impegnati a portare la versione speciale di Ritello a nuova vita. Il motore a doppia potenza è progettato per incrementare l'efficacia pulente del vostro Ritello. Girando a 27.000 giri al minuto con una potenza di motore di 1000 watts si crea il più alto flusso d'aria possibile, con un livello di rumore ancora più ridotto per permettervi di pulire in maniera ancora più piacevole. Si può scegliere fra quattro velocità e diverse funzioni semplicemente premendo il tasto più o meno. Il primo sistema pulente al mondo fornito di display luminoso legge ogni qual volta si cambi la velocità informandovi della funzione di lavoro scelta. Per ottimizzare l'alta prestazione pulente e di filtraggio e per salvaguardare l'inquinamento domestico, la versione speciale di Ritello è dotata di un'ampia vasca che contiene fino a 4 litri di acqua. Per facilitarvi nel riporre il vostro Ritello, Librex lo ha accessoriato con un cavo elettrico avvolgibile lungo 7 metri. Ritello è anche dotato di un robusto corpo in plastica ABS di alta qualità che gli assicura una lunga durata a riparo da maccatura e graffi. La migliore linea di accessori, elettrici non, assicura ai clienti più affezionati di Librex un prodotto di qualità secondo a nessuno. Cambiate il vostro sistema di pulire in un'operazione alquanto semplice utilizzando il sistema di turbospazzola di Ritello. Per le lunghe operazioni di pulizia, Ritello è dotato di un comodo manico ergonomico. La turbospazzola è anche dotata di un tubo telescopico comodamente estensibile a qualsiasi altezza. L'elettrospazzola aspira sabbia sporco proteggendo le fibre dei vostri tappeti, sia spessi che sottili, attraverso l'apposito regolatore di altezza della setola. Per evitare la caduta dell'elettrospazzola, Ritello è dotato di un apposito pulsante di blocco e sblocco del tubo. Fate sì che le macchie più resistenti scompaiono semplicemente utilizzando il kit di lavaggio aspirato del vostro Ritello. Con 3 litri di acqua ed un detergente, le vostre pulizie saranno più veloci e facili. Accendete il vostro Ritello ed osservate le macchie sparire. A completamento del vostro Ritello abbiamo incluso un'ampia gamma di utili accessori, quali la turbospazzola per raccogliere la polvere, uno spolverino con setole naturali adatte ad evitare graffi anche nelle zone più delicate, la bocchetta per i divani con spazzola movibile, un soffiatore d'aria che consente ad esempio di gonfiare palloncini nelle vostre occasioni speciali ed una lancia per raggiungere le zone più inaccessibili. Con il sacco sottovuoto, più spazio negli armadi e protezione da tarme, batteri e acari. Per salvaguardare i vostri costosi pavimenti in ceramica, in marmo o in legno dai graffi, la spazzola per pavimenti di Ritello è dotata di delicate setole naturali. E a differenza di ogni altro sistema pulente, Ritello offre due tubi telescopici che connessi ad una spazzola facilita ancora più l'aspirazione da luoghi come le vostre scale, l'interno dell'auto, i materassi e altro ancora. Lo stile elegante ed un design innovativo, la colorazione argente dei pulsanti principali di Ritello, la sequenza di luci coloranti del display e gli accattivanti adesivi danno a questa versione speciale di Ritello un look tutto nuovo. Come proteggere o anche regalare il nostro prezioso prodotto? La Librex ha dimostrato la propria volontà di preservare la qualità di Ritello attraverso un imballaggio contenuto ed elegante, ma soprattutto in grado di salvaguardare il Ritello da qualsiasi danno esterno. Il nuovo Ritello serie R1 SE, il primo sistema pulente con display luminoso ed ora con motore a doppia potenza, non ha rivali. Ritello, il potere della natura.